C'è chi era presente già alla prima corsa della funivia per tastare le nuove fontari, prima corsa verso le 8 a bordo circa 40 persone, un grado e mezzo negli impianti, sciatori aquilani ma anche qualche straniero e qualche turista, seppur la stagione invernale ormai irrimediabilmente compromessa al primo giorno sul Gran Sasso non si poteva rinunciare. Beh sicuramente questo è un giorno che tutti aspettavamo, ovviamente stiamo ormai quasi alla fine della stagione però è sempre un piacere e un amore di vedere una montagna di questo genere aperta, soprattutto per sfruttare tutto il comprensorio. La montagna è più bella, la montagna è più alta, la montagna è dove c'è neve naturale. Come essere tornati a casa, è un altro pezzo di città che torna da noi e siamo contentissimi. Hai visto i prezzi? Sì. Che pensi? Sono giusti, alla fine tutto sommato si parla comunque di un impianto scistico, il più grande, il più alto dell'Appennino. Pasqua è un bel regalo, ce l'aspettavamo tutti prima però insomma meglio tardi che mai.